Si è celebrato ieri presso la parrocchia Sant'Antonio a Fulgenzio di Lecce il 25esimo anniversario di sacerdozio di Fra Salvatore Giardina della provincia dell'assunzione della Beata Vergine Maria dei Frati Minori di Lecce. E inoltre direttore della radio Fra Tesole. Ma ascoltiamo le interviste di padre Francesco Mazzotta, direttore responsabile di Teledeon. Eccellenza, 25 anni di sacerdozio sono un'occasione per ringraziare il Signore, ma è un momento in cui i giornali mettono quotidianamente ormai in evidenza le pecche vere o presunte della realtà ecclesiale. In questo contesto di che preti abbiamo bisogno? Di preti che ci credono, di preti che si donano, di preti che testimoniano la gioia di cui sono investiti come annunziatori di quella pace che da Bethlehem deve giungere fino alla fine dei secoli. Ha ricordato altri tre verbi durante l'Omelia, quali sono? Salire, stare, scendere. Questo è il nostro compito. Partire da questa terra con tutte le lacrime, tutti i drammi e andare su da lui, raccontare, ascoltare la parola e ritornare giù con una parola che salva, una parola che dà gioia, una parola che perdona. Lei si trova ormai al termine del percorso episcopale in questa chiesa di Lecce. Quali sono gli aspetti che pensa di aver realizzato e quali invece quelli che hanno bisogno? Io i bilanci non li so fare, io non so se ho realizzato qualcosa, lo sa il Signore. Io ho cercato di fare il vescovo, ho cercato di essere fratello tra fratelli, in qualche occasione anche padre, attento ad accogliere, ci sono riuscito, non lo so. Ho voluto bene, ho portato amore e ne ho ricevuto tanto. I bilanci non li so fare, è bene che li faccia qualche altro. Ho letto in qualche curriculum che lei ha cercato di predicare la sobrietà dei riti in questa chiesa, ci è riuscito a farlo? No, 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 non credo di avere... Delle processioni forse? No, ho cercato di dare al nostro essere testimoni dell'assoluto, un assoluto però che ha scelto di essere a Bethlehem nella capanna, che si è fatto uno di noi, anzi ha scelto gli ultimi posti. Noi purtroppo abbiamo questa malattia, ma non è proprio una malattia, vogliamo Dio, il grande, l'immenso e vorremmo dare anche esteriormente questa dimensione, ma facciamo come ha fatto lui e la gente ci accoglierà molto di più e capirà ancora di più il mistero che celebriamo. Padre Salvatore, 25 anni di sacerdozio, è un momento di ringraziamento ma anche di bilanci? Ma io i bilanci si li presento di tanto in tanto, però non lo so se per presunzione, non lo so se sono capace di fare questo bilancio. Una cosa però posso certamente dirla è che ho cercato sempre di camminare, ecco come appunto richiamava anche il Vescovo nell'Omedia, nella fedeltà al Signore, nell'ascolto della sua parola. E soprattutto per dare anche sale e luce a quella che è una vocazione principale, che è quella religiosa, sono un frate francescano. Quindi il sacerdozio in un certo senso è un optional se vogliamo, però in questo ecco mi sento questa grande responsabilità. Il bilancio che posso fare forse, l'unica cosa che posso dire è che ho cercato e cerco di camminare sempre nella fedeltà al Signore, questo sì. Ascolta, negli ultimi anni assistiamo sempre di più a venticinquesimi, cinquantesimi e poche invece prime ordinazioni. Come è messa la vostra provincia qui francescana? Beh, viviamo ancora in una terra dove grazie a Dio l'esperienza religiosa è ancora un valore, un valore aggiunto. Ci sono ingressi e certo è che forse anche a noi toccherebbe un pochettino guardare, un po' e aprire gli orizzonti per quanto riguarda la formazione e anche e soprattutto il nostro carisma, come incarnarlo in questo tempo, perché possiamo essere soprattutto, come dicevo prima, fedeli al carisma, ma anche essere uomini sempre nuovi, uomini del nostro tempo e non ancorate a un passato che magari forse ha lasciato anche spazio alla modernità. Il tuo superiore ha ricordato, ha fatto una sintesi dei 25 anni tuoi, dicendo che tu sei stato in barrocchia tra Brindisi e Lecce, Lecce e Brindisi, quindi non ti sei mosso molto, ma ha omesso, non so se volutamente, di ricordare che tu ti occupi anche di altro. Io mi occupo di parecchio altro, dire il vero. Siamo nell'ambito delle comunicazioni sociali, ci tengo a dire che la mia vocazione religiosa e sacerdotale è nata in una radio, questo ci tengo soprattutto a dirlo. È vero, forse mi sono mosso poco come logistica, però è vero anche che una cosa che si è dimenticato di dire che non siamo insieme fisicamente nello stesso convento da qualche anno, però abbiamo sempre lavorato insieme perché lui ricordava nell'Omeria che come provinciale mi aveva incaricato a essere animatore nel settore delle vocazioni, ma abbiamo sempre lavorato insieme, soprattutto per quanto riguarda l'esperienza vocazionale. Lui era animatore vocazionale e in equip lavoravamo insieme, quindi questo l'ha dimenticato di dire, lo dovevo corriggere. Sì, ma parlavi della radio, no? Radio Frate Sole, tu sei responsabile di questa piccola radio cattolica della Salentino, diciamo. Che importanza ha la radio, una radio cattolica oggi? Può avere un'incidenza sul territorio? Sì, qualsiasi mezzo che può raggiungere le persone, possa portare la parola del Signore in qualsiasi maniera diventa sempre incidente. Del resto non dimentichiamo che Gesù ha detto quello che vi è stato detto all'orecchio, predicatelo dai tetti. Ora sui nostri tetti abbiamo queste antenne che sono anche alte più di 20 metri, sono dei 13, voi ne avete ben esperienza, allora meglio così. Ecco perché la radio in un certo senso diventa anche quello strumento di compagnia quotidiana, perché posso mutuare le parole di Finardi, la radio ti permette di scrivere, di pensare, di fare altre cose, occupando forse in un certo qual modo una minima percentuale del senso dell'udito, quindi la puoi anche ascoltare distrattamente, però tante volte sai come quei ritornelli, così la parola del Signore ti entra piano piano e poi cresce.